Oggi venerdì primo aprile l'Italia dice stop alle regole imposte per limitare i contagi. Finisce l'emergenza legata al covid e la novità più grande è che non è più necessario esibire il green pass per andare dal parrucchiere in banca negli uffici pubblici. Stop all'obbligo del certificato vaccinale anche per entrare nei ristoranti all'aperto, sui mezzi pubblici, nei musei. Resta invece necessario avere il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro. Da oggi cambiano alcune regole anche per quanto riguarda la quarantena. Va isolato solo chi è contagiato dal covid mentre i contatti stretti di un positivo applicheranno tutti l'autosorveglianza indipendentemente dal numero di dosi di vaccino ricevuta per dieci giorni con la necessità di indossare la mascherina FFP2 e di effettuare un tampone dopo cinque giorni o anche prima se compaiono i sintomi. La mascherina resta obbligatoria al chiuso mentre non cambiano le regole per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni. Resta l'obbligo di super green pass per andare in discoteca dove però sarà sufficiente la mascherina chirurgica che si potrà togliere mentre si balla. Le discoteche tornano a capienza piena. Queste nuove regole da oggi impattano però con dati che anche in provincia di Salerno fanno registrare un aumento del tasso di contagiosità. Oggi siamo al 18,82%, 1633 tamponi positivi su 8723 tamponi effettuati. Ad esprimere preoccupazioni è il dottor Arcangelo Saggese Tozzi responsabile Covid per l'asla di Salerno. In questo momento il sistema sanitario provinciale è impegnato tra l'altro anche a fronteggiare l'arrivo dei profughi che in provincia di Salerno attualmente sono 2.800. Oggi finisce l'emergenza legale, dico io, però di fatto la situazione pandemica è ancora in una situazione di allarme perché abbiamo nell'ultima settimana, nelle ultime tre settimane abbiamo raddoppiato il numero di positivi. Siamo al 18% dei positivi sui tamponi che effettuiamo. Questo ci deve insegnare che in una situazione del genere dobbiamo continuare, al di là delle imposizioni normative che in qualche modo si semplificano, dobbiamo continuare ad osservare rigorosamente le mesi di precauzione. Deve diventare agire comune, non assembrarsi, non stare in grandi gruppi insieme, continuare a tenere le mascherine quando si sta vicini. Sono regole elementari che devono diventare senso comune. Se riusciamo a fare così, anche grazie alla copertura vaccinale che comunque è estesa, le complicanze legate all'ampliamento della diffusione del virus ma alla protezione vaccinale ci permetteranno di superare questo ostacolo e non intasare gli ospedali.